Fedez si è raccontato a cuore aperto durante un'intervista rivelatrice con Francesca Fagnani per Belve, in onda questa sera su Rai 2. Tra momenti commoventi, ironia e sfuriate, il rapper ha affrontato vari argomenti, incluso il suo divorzio da Chiara Ferragni e lo scandalo del Pandoro. Quando gli è stata posta la domanda se il caso Balocco abbia avuto un impatto sulla fine del matrimonio, Fedez ha risposto con fermezza. Il caso Balocco ha influenzato la crisi? Sì, sì, sì. L'atmosfera si è surriscaldata quando Fagnani ha chiesto se tutti i marchi si fossero ritirati, incluso lui. Dopo un'iniziale esitazione, Fedez ha confessato a Fagnani quando è realmente finito il suo amore con Chiara. Ha affrontato le accuse di tradimento con un mix di sarcasmo e provocazione, respingendo l'idea che la sua sessualità sia cambiata improvvisamente dopo il matrimonio. L'intervista ha anche toccato argomenti personali delicati, come l'adolescenza tumultuosa di Fedez e il suo rapporto con la droga. Ha rivelato di aver tentato il suicidio a soli 18 anni, un tragico effetto collaterale delle sostanze che assumeva. Oltre ai dettagli sulla sua rottura con Chiara Ferragni, Fedez ha discusso del suo rapporto burrascoso con la politica e della recente separazione dal suo ex socio e amico Luis Sal, con cui ha fondato il podcast Muschio Selvaggio.